Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Ho deciso di pubblicare questo breve filmato per ringraziare tutti quelli che mi hanno inviato l'adesivo. Ho costruito una semplicissima bacheca con un pannello di multistrato al quale poi ho applicato un listellino di legno come cornice. Ho dato due mani di turapori e due mani di vernice all'acqua grigio perla per far risaltare meglio gli adesivi e spero che si vedano bene. Non vedrete la costruzione perché è una cosa veramente semplice quindi non ho fatto il video della costruzione. Era solo per appunto ringraziare tutte le persone che mi hanno inviato l'adesivo. Come vedete spazio ce n'è ancora quindi chi volesse fare lo scambio con me mi contatti e io sarò ben lieto di fare lo scambio. Buon fai da te a tutti. Ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!